Chi è? Buonasera è sempre un piacere suonare e nel fare di più suonare per forti amici non è la prima volta come diceva Nico prima che noi suoniamo in questa chiesa ma è sempre come se lo fosse perché è un po' come accendere una candela è vero magari la candela è stata già usata altre volte ma è sempre una nuova luce anche se è la stessa candela il prossimo brano John Paul vuole essere per noi, per voi, per tutti un augurio, un invito in tempi malvagi, in tempi poco felici voglio quindi essere un modo, un invito, un elogio alla gioia che sia una nuova parattia, un nuovo virus perché è bello essere contagiato di gioia è bello essere portatori di gioia e trasmetterla anche alle persone che ci circondano voglio quindi essere un augurio ai molti amici e ancora di più ai molti nemici che possano accogliere la gioia e farne veramente un messaggio d'amore John Paul Grazie Applausi Grazie 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 diciassettesimo secolo che si intitola God Rest You, Mary Gentlemen, ovvero Signori, Dio vi renda felici. E' una tradizionale carola natalizia inglese. Il brano è anche citato nell'opera The Christmas Carol di Charles Dickens, quando lo scroge e affuggiremo un po' i cantori i cantori natalici. Buona scelta! Grazie a tutti! 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 di israele della palestina ucraina e russia anche va il nostro supporto il nostro pensiero anche perché questa serie di concerti è intitolato concerti per la pace signori e signori spero che sia stato e che sarà anche per quelle genti un sereno natale questo e i prossimi the first night Grazie 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 Con il prossimo brano l'albore di Sassquart deve chiudere il concetto Un quartetto che, come abbiamo già accennato prima, rappresenta, o spero, rappresentare il Sud Italia Noi ci siamo conosciuti attraverso gli studi in conservatorio, siamo tutti diplomati in conservatorio attraverso masterclass, corsi di perfezionamento e competizioni musicali ma il nostro viaggio è iniziato due anni fa con il rata semmo di un quartetto al giorno e spero che potrà durare, anzi sono certo che durerà tanti 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 altri anni e il prossimo brano prende il titolo di cui wish you a merry christmas e quindi hell and happy to hear vorremmo augurarvi ma prima di suonare invito Nico e Ken la domanda dovrebbe essere qui per convocare i veri padroni di casa Doveroso padre dei ringraziamenti soprattutto la parrocchia di la chiesa di Santo Stefano nella figura di Don Domenico che si nasconde in realtà vorremmo augurarvi la situazione ai ragazzi di San Rocco nella figura di Tango Freda il rinforzamento personale a Giuseppe e Nicola Benigelli e il rinforzamento a tutti che siete qui presenti grazie 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 tenete se la pace e bellezza e bene e vita buona e armonia e comunione e voi questa sera con la vostra musica avete sicuramente costituito e rappresentato degli ottimi ingredienti per portare la pace costruire la pace, l'armonia, la comunione nelle relazioni e allora grazie per questa fortuna vi auguriamo a fare un'esistenza per la comunità di mia volumina vi accortiamo vi accortiamo vi accortiamo vi incoraggia a portare in alto il nome di questa cittadina e non solo del sud avete portato il sud e allora possiate essere veramente una bella bandiera che porta la pace dovunque sarete chiamati a cantare e ad animare i cuori delle persone che congerete auguri di vero cuore auguri a te vis 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 credo che possiamo accogliere anche questo almeno un brano se volete potete sicuramente allietarci ancora con qualche altro grazie a tutti va bene visto che è richiesto comunque siamo davvero vi ringraziamo perché noi ci abbiamo voluto e ci abbiamo provato di un altro del nostro meglio però voi siete stato davvero un grande pubblico davvero grazie grazie per il vostro calore e il vostro affetto una piccolezza nei nostri concerti durante i nostri concerti noi lasciamo un souvenir un omaggio affinché possiate portare con voi a casa le emozioni che vi abbiamo trasmesso questa sera su quel manchetto ci sono dei cibili che appunto contengono un po' di brani eseguiti oggi e li potete ritirare insomma sono vostri noi ve li regaliamo e dal canto vostro spero che ci possiate sostenere in ogni modo possibile che ci sosteniate attraverso i social per chi è magari un po' più giovinciato con un click e un cosiddetto like riproponendo il nostro nome che trovate anche sulle locandine al corizzo Saksquart su Facebook YouTube eccetera ora vi ho mangiato con un rispa grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.